La verità è che questa casa, non la mia, ma è piena di rumori e quindi io per ripicca che faccio? Reciterò il monologo finale di Trainspotting perché giustamente... Ok. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. E' l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come poi. Il lavoro, la famiglia, il maxitelevisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il cd e la piscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizia vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequiz, schifezzo nella pancia, figli a spasso nel parco, orario di ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale. Tirando avanti lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.